Un tempo sarebbe stato praticamente impossibile anche solo immaginarlo, eppure ormai da anni una tra le coppie più amate nella storia dello showbizno strano è più lontano che mai Ilari Blasi si gode viaggi e spensieratezza con il suo Bastian Muller mentre Francesco Totti fa progetti con Noemi Bocchi È incinta? In realtà non si contano più le indiscrezioni a proposito di una presunta gravidanza della nuova, id ormai manco troppo, compagna dell'eterno pupone dell'Es Roma Ma questa volta si farebbero decisamente e insistentemente più convincenti Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano il loro primo erede insieme? Naturalmente l'indiscrezione in questione aleggia soprattutto nella capitale tra diverse intricate teorie In quel di Vigna Clara, quartiere scica a nord di Roma dove lo sportivo si è spostato per convivere con la compagna, non si parlerebbe d'altro Noemi Bocchi, già mamma di Sofia e Tommaso, rispettivamente di 13 e 11 anni, potrebbe aspettare di quello che sarebbe il terzo genito per lei e il quarto per l'ex calciatore D'altra parte anche quando Francesco Totti era al fianco di Hilary Blasi scherzavano continuamente per il desiderio di lui di avere altri figli dopo Christian, 2005, Chanel, 2007, e la piccola Isabel, 2016 Eppure la conduttrice, a mo' di battuta, diceva che se li voleva li avrebbe dovuti fare con un'altra Ebbene pare si stia per realizzare quello che lei diceva per scherzo Ma ecco che, Alessandro Rosica, alias investigatore social, oggi smentisce categoricamente l'arrivo imminente di un figlio Mi state assillando, non è incinta assolutamente, le sue parole online I fan della coppia dovranno aspettare, i due sarebbero intenzionati Ma ecco che, Alessandro Rosica, aliasカ a la città del video